Le più forti emozioni sono tentazioni. La moda si trasforma in preziosa tentazione, Biblos Temptation. La nuova collezione di Biblos Jewels, unica per stile, innovazione tecnologica e design ideata e prodotta interamente in Italia. Un concetto all'avanguardia e una sfida al futuro. La collezione Biblos Temptation rappresenta una nota decisa e di forte personalità senza compromessi. Volevamo gioielli leggeri come piume, colori lividi e una brillantezza che emozionasse la donna. La nostra idea? Il progetto Biblos Temptation.